Per favore, fatemi parlare. Naim. Allora se... mi consentiti di parlare... Naim. Abbiate rispetto a stare in silenzio ad ascoltare. Naim. Devo concludere. Devo iniziare a metà. Sto pensando. E spegnere, 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 spegnere... Sto a perdere ragazzi... Ah? Sto a perdere ragazzi... Ah? Che all'input che a Palermo c'è una torta. Sto a perdere ragazzi... Ah? Sto a perdere ragazzi... Ah? Che all'input che a Palermo c'è una torta. Ma non voto così semplice. Io non mi aspetto, non voto semplice. So che sarà in la palla. Abbagliono. 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 Aspetta! Non ci sono alternative! Abbagliono. 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 Aspetta! Non ci sono alternative! Non ho niente da dire a nessuno. Un'aproce per voi! Ah? La X sono a noi! Un'aproce per voi! Ah? La X sono a noi! Un'aproce per voi! Ah? La X sono a noi! Ah? Un'aproce per voi! Ah? La X sono a noi! Tutti quanti contro il mio figlio Borio! Borio! Ah? Borio! Ah? Ah? Borio! Ah? Borio! Ah? La X è la causa principale della sconfitta di Gianfranco Muschino! Gabriele Agliani! Gabriele Agliani! Vero Gabriele! Vero Gabriele! Candidato Fibrago! Agliani! Gabriele! Tocca! Agliani! Gabriele! Tocca! Aspetta! Aspetta! Fonigitti! Fonigitti! Aspetta! Aspetta! Fonigitti! La verità di Vammale! La verità di Vammale!